Un'assemblea importante con una relazione importante del nostro Presidente, di Alessandro Spada, che ha messo al cuore l'Europa, al centro del suo discorso, del suo intervento, perché l'Europa è il presente, ma è anche il futuro. Come ha detto appunto il Presidente Spada e anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, costi quel che costi, l'appuntamento con il PNNR, le risorse e i progetti da ultimare non sono più solo un'opportunità, ma sono il deludibili per il futuro comunque delle industrie e del paese di un paese come quello dell'Italia, che sta continuando a dare un contributo in Europa importantissimo e spesso anche molto superiore a quello che vediamo nel resto d'Europa.